Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Come state? Finalmente oggi un'altra lezione di grammatica, un video sulla grammatica. Come potete capire dal titolo di questo video, oggi parliamo di pronomi. Non vorrei parlare dei pronomi nel dettaglio, cioè da un punto di vista della regola grammaticale, cioè il pronome diretto della prima persona singolare è mi, eccetera. Perché quello potete facilmente trovarlo voi, cioè aprendo un libro di grammatica oppure cercando le regole grammaticali su internet. In questo video voglio concentrarmi sull'uso dei pronomi e quindi cercherò di rispondere alla domanda quando devo usare i pronomi diretti e quando devo usare i pronomi indiretti? I pronomi sono molto importanti nella lingua italiana perché permettono a chi parla di non ripetere alcune parole e quindi far diventare la conversazione pesante, appesantire la conversazione. Non ci piace ripetere sempre le stesse parole. Quando l'elemento è menzionato la prima volta in una conversazione, non c'è più bisogno di ripetere la stessa parola perché ormai l'oggetto è conosciuto dai partecipanti alla conversazione. Ed è qui che entrano in gioco i pronomi, che sono fondamentali per parlare bene e farsi capire. I pronomi, come dice la parola stessa, sostituiscono il nome, sono usati al posto del nome e ovviamente hanno la stessa funzione di oggetto diretto oppure indiretto nella frase, come lo avrebbe il nome. Come abbiamo già detto, i pronomi che ci interessano in questo video sono i pronomi complemento oggetto diretto e i pronomi complemento oggetto indiretto. I pronomi diretti sono quei nomi che sostituiscono il nome che nella frase costituisce il complemento oggetto diretto della frase e quindi abbiamo mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Mentre i pronomi indiretti sostituiscono il nome che in una frase occupa la posizione di complemento indiretto. E i pronomi sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Come vedete, i pronomi diretti e i pronomi indiretti sono per la maggior parte gli stessi, a parte le terze persone singolari e plurali. Quindi la domanda è come faccio a distinguerli in una frase nella conversazione? Come faccio ad utilizzare questi pronomi? Come so se devo utilizzare il pronome diretto o il pronome indiretto? Allora, la chiave è guardare il verbo. Bisogna capire se il verbo è transitivo oppure intransitivo. Quindi capire se il verbo è transitivo oppure intransitivo è la chiave per utilizzare i pronomi diretti e indiretti. Che vuol dire se un verbo è transitivo oppure intransitivo? Il verbo è transitivo quando trasferisce l'azione su un oggetto in modo diretto, cioè senza preposizione tra il verbo e l'oggetto. E risponde sempre alla domanda chi o che cosa. Per esempio, il verbo guardare è un verbo transitivo perché trasferisce l'azione su un oggetto. Quindi io guardo un film, io guardo una pubblicità, io guardo qualcosa. Invece, un verbo è intransitivo quando non trasferisce l'azione su un oggetto. Quindi il verbo ha un significato pieno, come per esempio camminare. Io posso semplicemente dire io cammino. E questa frase è una frase di senso compiuto, perché il verbo ha un significato pieno. Però può anche capitare che il verbo intransitivo trasferisca l'azione sull'oggetto ma in modo indiretto, quindi con l'aiuto di una preposizione. Perciò tra il verbo e l'oggetto troveremo una preposizione. Per esempio, telefonare è un verbo intransitivo perché io non posso dire telefono mia sorella, ma devo dire telefono a mia sorella. Quindi l'azione, per avere significato, deve essere trasferita sull'oggetto ma con l'aiuto di una preposizione. Quindi telefonare è sempre intransitivo, perché io posso anche dire io sto telefonando, il significato è pieno, non ho bisogno di aggiungere altro, oppure devo dire io telefono a mia sorella, quindi ho bisogno di una preposizione. Ovviamente ci sono anche dei verbi che sono sia transitivi che intransitivi, come per esempio il verbo scrivere. Io posso dire scrivo una lettera e quindi in questa frase scrivere è transitivo, ma posso anche dire scrivo a mia sorella e diventa intransitivo, quindi dipende da quello che vogliamo dire. Posso dire scrivo una lettera a mia sorella, in questa frase scrivere è al contempo transitivo e intransitivo, perché ci sono due complementi, un complemento oggetto, diretto, e un complemento indiretto, più precisamente un complemento di termine. Quindi torniamo al punto, alla domanda iniziale. Se io so che guardare è un verbo transitivo, dovrò necessariamente usare i pronomi diretti. Quindi se io dico guardo un film, se voglio trasformare questa frase ed utilizzare un pronome, dovrò scegliere il pronome diretto terza persona singolare maschile che vada a sostituire il film. Quindi diventerebbe lo guardo, cioè guardo il film, guardo che cosa il film. Se invece io so che telefonare è un verbo intransitivo, necessariamente dovrò utilizzare un pronome indiretto. Quindi riprendiamo la frase di prima, telefono a mia sorella. Dovrò prendere un pronome che sostituisca a mia sorella, quindi un pronome di terza persona singolare femminile, le. Quindi la frase diventa le telefono. Quindi per capire quando utilizzare i pronomi diretti e oppure i pronomi indiretti, dobbiamo guardare il verbo, dobbiamo analizzare il verbo della frase e capire se questo è transitivo oppure intransitivo. Nel caso si tratti di un verbo transitivo, devo usare i pronomi diretti. Al contrario, se si tratta di un verbo intransitivo, devo usare i pronomi indiretti. Questa è la chiave di lettura o la chiave di utilizzo di questi pronomi. Allora, spero di essere stata chiara, se non totalmente chiara, abbastanza chiara. Ovviamente se voi avete delle domande, se volete condividere un'opinione, un pensiero o qualunque cosa, lasciate un commento qui sotto. Vi ringrazio per aver guardato questo video e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E poi potete anche trovarmi su Instagram e anche su Patreon, quindi troverete tutti i link nella descrizione sotto a questo video. Grazie mille ancora e ci vediamo la prossima settimana con un'altra lezione di italiano. Alla prossima, ciao! 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 Grazie a tutti.